E' stato uno dei più importanti studiosi del fegato e della rigenerazione epatica il professor Antonio Francavilla deceduto ieri a Bari all'età di 84 anni. Era nato a Barletta, era figlio di un agricoltore di una casalinga e in ossequia la cultura contadina di allora e in parte anche di oggi, essendo quello più piccolo fu destinato agli studi e come accadeva e accade ancora oggi, il figlio sottratto al duro lavoro dei campi avvertendo il privilegio che gli era stato accordato, ne sentiva forte anche la responsabilità di non deludere le aspettative e quasi mai lo faceva. Il professor Antonio Francavilla andò oltre ogni aspettativa, lo studio ai Barnabiti di Trani, la laurea in medicina, la specializzazione in gastroenterologia e poi una carriera luminosa che lo fece diventare, oltre che docente ordinario di gastroenterologia all'Università di Bari, uno dei riferimenti mondiali del settore per gli studi sui meccanismi ormonali e immunologici. Il professor Francavilla ha posto le premesse per terapie oggi diventate diffuse come il trapianto del fegato split da vivente. Autore di oltre 400 pubblicazioni, a lui si deve la nascita della scuola gastroenterologica in Puglia. Grande il cordoglio del mondo scientifico. Il professor Francesco Giorgino, direttore del Dipartimento dell'emergenza e dei trapianti di organi dell'Università di Bari, ne ha ricordato gli inizi di attività negli anni 70 all'Università di Denver, proseguita sino al 2015 a Pittsburgh, sempre negli Stati Uniti, accanto a Thomas Startz, padre del trapianto del fegato. Mentre il professor Lorenzo Gesualdo, presidente della scuola di medicina dell'Università di Bari e coordinatore regionale dei trapianti, ha voluto sottolineare quanto la scienza debba moltissimo al professor Francavilla, grazie ai suoi studi, alle sue intuizioni e alla sua intelligenza. I risultati scientifici raggiunti restano un'eredità per tutti noi, conclude il professor Gesualdo. Padre Barlettano, madre Andriese, con il professor Antonio Francavilla scompare una delle personalità di maggior rilievo del nostro territorio e Barletta, la sua città, perde uno dei suoi figli più illustri. Ma è l'intero mondo scientifico che con il professor Francavilla perde non solo un imprescindibile riferimento, ma anche un uomo straordinario e un pilastro nella storia della medicina e dei trapianti.